Dal Comune al Tribunale si allarga la vicenda dei contributi concessi con affidamento diretto alle due associazioni Opera Maestra e Stella Polare, non solo per coprire iniziative culturali ma anche per altro genere di interventi che supera i 550 mila euro. Il tutto senza valersi di dipendenti ma affidandosi ai volontari e risultando esenti dal documento unico di regolarità contributiva e non iscritta al registro unico nazionale del terzo settore. La procura di Pesaro ha aperto un fascicolo per ora senza ipotesi di reato e indagati affidando le indagini a squadra mobile e guardia di finanza. L'ex candidata sindaco per vini oltre e avvocatessa Pia Perricci dopo aver presentato denunce per gli affidamenti in questione ha chiesto di commissariare la fondazione Pescheria partecipata del Comune per la quale anche i gruppi consigliari di centrodestra hanno sollecitato l'accesso agli atti come per l'altra partecipata Aspes al fine di fare chiarezza sulle attività e sulle assegnazioni. Nei giorni scorsi Perricci aveva rilasciato dichiarazioni e scritto un post sui social legato alla battaglia del sindaco sull'abolizione del reato per abuso d'ufficio. Ricci ha rispinto tali affermazioni e ritenendole gravi e gratuite ha dato mandato ai legali di querelare Perricci per diffamazione a mezzo stampa. L'ex candidata ritiene invece che il suo post non contenga nulla di diffamatorio ma semplicemente che riassuma i fatti. Sulla vicenda giudiziaria degli affidamenti Ricci ha già detto che come sindaco definiva scelte politiche da realizzare mentre non si è mai occupato di affidamenti e assegnazioni. Intanto mentre divampa la polemica politica gli investigatori esaminano gli affidamenti diretti alle due no profit che dal 2020 hanno ricevuto dal comune e dalle sue partecipate 556 mila euro per diverse attività. Le verifiche serviranno per capire se al di là di eventuali irregolarità amministrative vi siano profili di licità penale. In un caso risalente al 2020 era emerso anche che un capitolo di spesa da 20 mila euro non corrispondeva all'attività materialmente realizzata. Nel frattempo il comune guidato dal sindaco Andrea Biancani sta valutando con l'ufficio legale e dirigenti come seguire la vicenda giudiziaria. In settimane in programma una nuova seduta della commissione controllo atti che ha preso in mano la questione dopo la bocciatura da parte della maggioranza della commissione di inchiesta richiesta dal centrodestra.